E devo dire che ho sentito tantissimo, tanta espansione, proprio mi sono lasciata andare, ho sentito che lavorava tantissimo sul sesto chakra, cioè proprio un formicolio continuo dall'inizio alla fine. Ho proprio visto questo cerchio, mi sono vista io come proprio un cavaliere di luce, un guerriero di luce e proprio come un cerchio di guerrieri di luce in quella sala. È stato molto molto bello, molto forte.